Skyrim sembra folle ma a ben pensarci sono già passati 13 anni da quando questo videogioco è uscito e quest'oggi sono davvero molto felice perché Top of Gaming, il nostro canale, ha una classifica molto particolare che nessun altro canale in Italia ha. Parla delle mod a 360 gradi e di Skyrim voi di mod ne andate davvero molto ghiotti. Fu anche il mio primo video del mondo delle mod e devo essere sincero non con pochi errori ma tralasciando ciò che è stato il passato dobbiamo soffermarci su ciò che sarà il futuro. Ma prima di parlare del futuro e del discorso di quest'oggi è un attimino importante cercare di fare chiarezza. Perché il mondo delle mod è così importante? Perché quest'oggi siamo qui a parlare di futuro di Skyrim e di nuovi DLC? Cosa c'entrano con le mod? Beh perché sembra che nell'ultima patch che Bethesda ha rilasciato nel suo videogioco alcuni dataminer abbiano trovato l'esistenza di una nuova funzione che probabilmente verrà messa nel videogioco da qui a qualche tempo. Qual è questa funzione? È quella del marketplace ed essenzialmente se conoscete il mondo delle mod su Minecraft allora dovrebbe esservi ancora più chiaro. In sé per sé le mod che vi racconto qui sul canale vengono prese dal sito Nexus Mods. Ok? Queste mod, sebbene io vi dica che sono completamente gratuite ed è giusto dire così, alle volte dietro ci sono uno o più persone che si sbattono per fare queste mod. Basti semplicemente pensare ragazzi che io qui sul canale vi ho raccontato le mod grafiche, alcune mod del combattimento, alcune mod degli oggetti. sono cose piccole, ma c'è gente là fuori e farò un video che ha fatto delle mod molto più grandi. Pensate che qualcuno ha aggiunto ben 9000 linee di dialogo, altre persone invece hanno aggiunto 6 nuove isole, altri invece hanno creato una nuova storia con dentro tutto quello che ne comporta. NPC, nuovi, nuove modalità, altri invece hanno ampliato le possibilità di gioco, altri invece hanno toccato tante altre questioni varie ed eventuali all'interno appunto di Skyrim. Insomma il mondo delle mod di Skyrim è enorme e basti pensare anche un'altra cosa ed è una parte davvero molto fondamentale della storia di questo nuovo DLC. La Anniversary Edition che tutti voi vi state godendo nelle vostre console e nei vostri PC non è altro che Skyrim, ma non con dietro degli sviluppatori che hanno detto bene adesso ci mettiamo a fare le cose fatte bene qua sulla grafica, aggiungiamo questo, aggiungiamo quest'altro. No, se avete visto i miei video qua sul canale allora vi ho raccontato che quella versione, la Anniversary Edition, in realtà contiene al suo interno ben 150 mod selezionate dal mondo delle mod generali di Skyrim, leggermente ottimizzate e poi buttate dentro a forza nel videogioco. Dentro c'erano delle mod per tutto, mod del combattimento, mod che avevano a che fare con la grafica, mod che avevano a che fare con i draghi, avevano a che fare con gli NPC, avevano a che fare con gli oggetti. Insomma il mondo delle mod è importante, davvero importante ed ecco il perché di questo video. Appena 24 ore fa il canale YouTube Juice Head insieme ad alcune notizie che sono emerse in un Discord di Starfield ha notato appunto che nell'aggiornamento di novembre ci sono alcuni file un po' criptici appunto di Skyrim tra cui appunto si parla di Marketplace. Allora, vi dicevo, il Marketplace in questione assomiglia moltissimo a quello presente per l'universo di Minecraft. Questo che cosa vuol dire? Beh, se sapete come funzionano le mod in Minecraft, allora forse saprete che a chi crea le mod viene dato un piccolo supporto. Ed eccola qui la grande notizia, la grande news, il grande DLC che potrebbe portarvi a giocare Skyrim per tanto, tanto, tanto altro tempo. In fin dei conti ha durato ben 12 anni. Sì, perché il gioco è buono, ma perché c'è anche gente che ci investe un quantitativo enorme di tempo. E lo stesso Todd Howard in un'intervista ha definito che è sempre bello vedere la community così attiva, ma allo stesso tempo è importante dare a queste persone un rewards, una specie di ricompensa per quanto riguarda il loro operato. Quello che state vedendo è il video di, appunto, lo YouTuber in questione Juice Head che vi ha fatto vedere il Marketplace di Minecraft. Bene, in quel Marketplace, quando voi andate a prendere una mod, questa mod costa, ok? Vedete queste monetine. Queste monetine essenzialmente si comprano con soldi reali. Oppure, allo stesso tempo, sembra che attraverso lo sblocco di alcuni obiettivi, attraverso il quantitativo di ore che fate su Skyrim, essa sblocchi un po' di monete. Queste monete, appunto, alcune che potete comprare, alcune che potete fare in game, le potete spendere per prendere le vostre mod preferite. Questa è una maniera, primo, per i creatori di mod da prendere un qualche soldino. Allo stesso tempo serve a Bethesda per cercare di portare dentro di sé e cercare un attimino di sviscerare o comunque controllare le mod che vengono immesse nel suo videogioco. in sé per sé è un modo per ottimizzarle, così dice Toda Howard. In questa maniera, sempre stando alla sua intervista, non si avrà bisogno di siti esterni, dicesi Nexus Mod, per appunto ottenere queste mod oppure forum varie ed eventuali. No! Sembra appunto che tutto passerà per questo marketplace. che non so se avete notato qualche secondo fa, prima di questo gameplay, c'era scritto che da quando è fuori quel marketplace delle mod per Minecraft ha generato un bel po' di fatturato. Quindi la gente in sé per sé, con pochi soldini, ora non si sa molto bene quale sarà il costo di queste monete, come si potranno ottenere e qual è la percentuale di guadagno della nostra Bethesda, una cosa è chiara. Un po' di soldi andranno loro e una buona gallina che devono assolutissimamente cercare di portare dentro di sé e per i giocatori potrebbe essere un modo più canonico, più tranquillo per poter installare le varie mod. Inoltre, così facendo, pagandole, dicesi che alcune mod vengono in qualche modo ricompensate della loro qualità, della loro dedizione. Ribadisco, a me piace sempre pensare che là fuori ci sia qualcuno che per passione crea delle mod per Skyrim. Ma allo stesso tempo, state ben attenti, la passione deve essere in qualche modo, non può essere solamente passione, ok? Spreco di tempo. Ma magari, se riuscisse a prendere qualche soldino, che ne so, a ogni download un euro, faccio un esempio, quella moda andasse molto forte e facesse anche solo 10.000 di download, ok? 10.000 persone che non è niente per Skyrim, e lui guadagnasse, che ne so, su quell'euro 80 centesimi, voi comprendete che due soldini, forse potrebbe anche permetterseli, no? Un reward della buona uscita, se lo potrebbe anche permettere questo cristiano, ha avuto una bella idea, se lo può permettere. Per voi, un euro, sono relativamente pochi, per lui, se fa le cose fatte bene, nel complesso, ci può guadagnare, e allo stesso tempo, anche Bethesda, ci può guadagnare. Ovviamente, questa è un'idea ben formata dal punto di vista economico nella testa di Todd, appunto, vedendo i risultati che ha raggiunto Minecraft, e anche per dare continuità ai contenuti interni di Skyrim. Ribadiamo il concetto del fatto che le mod non sono solamente una questione grafica, non sono solamente una questione di oggetti, ma se, ad esempio, fosse anche un'ottima mod, bella, grande, e importante, di un, appunto, come vi ho raccontato, di quello che ha creato sei nuove isole, quello che ha messo nuovi sistemi di combattimento in Skyrim, quello che ha creato novemila nuove linee di dialogo, quello che ha creato una nuova incredibile storia, non sarebbero propensi, magari, a creare qualcosina, e magari, allo stesso tempo, anche Bethesda, potrebbe un attimino controllare, ok, che non ci siano frodi varie ed eventuali. Certo è che questo marketplace, ragazzi, non sarà solamente a pagamento, quindi non tutte le mod saranno a pagamento, su questo voglio essere e anche Todd e anche Minecraft non presentano che tutte le mod, ogni singola mod è a pagamento, assolutissimamente e totalmente no. Il pagamento delle mod è comunque limitato a chi vorrà essere pagato e quelle certificate, quelle di enorme valore, come dice Todd, se viene chiesto direttamente dallo sviluppatore che esse vengano in qualche modo un attimino retribuite, ci sia questo famoso rewards, benvenga, Bethesda gli farà da farà da assicuratore, farà da intermediario, in modo tale che voi nella vostra consola avete una mod che funziona, che non è una pattaccata e che quello che c'è scritto nella descrizione c'è, tutto il resto sapete di quei mod che dicono si farò ma non vedrò, ma apro il Patreon, ma questo no, in qualche modo poi vi possono anche fregare, bene, in questo caso potete stare un pochetto più tranquilli, questa è la parte di intervista nella quale appunto Todd dice questo e molto altro. Insomma, lo so che alcuni di voi leggendo il titolo avranno pensato uuuuh DLC di Skyrim, ma questo essenzialmente è un contenuto aggiuntivo che va ad aggiungere altri contenuti aggiuntivi al nostro videogioco e lo fa con qualità e anche un minimo di economia, minimo oserei dire, per cui amici spero vivamente che questo progetto fare bene le cose non solo per lucrare ovviamente possa essere portato avanti bene da Bethesda Bethesda si sta concentrando ampiamente sul suo Starfield che sappiamo uscirà nel 2023 e allo stesso tempo questo potrebbe dare modo a molti modder di poter creare incredibili storie storie e mod che io comunque non mancherò di raccontarvi qui sul canale spero quindi che questo video vi sia piaciuto vi abbia entusiasmato come entusiasma il sottoscritto sarò qui a raccontarvi questo e molto altro alla prossima ciao ciao